Salve a tutti amici e benvenuti in un nuovo video Oggi abbiamo un'inquadratura inconsueta Ma andiamo a realizzare i tutorial che avete chiesto voi O meglio, le cose che avete chiesto voi E cominciamo da Rosario Greco Che mi ha chiesto con l'hashtag LucaPensaciTu Di realizzare l'animazione del titolo del film Baywatch Che ho visto sul trailer Ho cercato un pochino il trailer sul web Ancora non ho visto il film, lo vedrò presto Però immagino che l'animazione del titolo sia la stessa Quindi ho preso il trailer del film Che ora vi mostro E andiamo a vedere quella che è l'animazione del titolo E cerchiamo di replicarla più simile possibile Ok, questa è l'animazione del titolo Quindi paradossalmente molto semplice Ma il nostro amico vuole sapere come poter realizzare una cosa simile E noi lo accontentiamo senza problemi Allora, apriamo il nostro After Effects Iniziamo creando una nuova composizione La chiameremo animazione titolo E la facciamo durare 7 secondi Va più che bene Certo, se lo scrivo poi Tiotolo è un'altra cosa Facciamo in HD Va più che bene Perfetto Allora Dobbiamo Cominciamo subito dal creare il titolo Del nostro pseudo film Quindi scriviamo Baywatch Originalità portami via E andiamo a prendere un font Che possa sembrare simile Io immagino un bebas Vada più che bene Allora, aumentiamo un pochino Allineiamo al centro Grazie agli strumenti di certa disposizione After Effects E andiamo a creare Un solido Lo chiameremo BG Lo mettiamo sotto al nostro testo E gli applichiamo un effetto Di sfumatura Quindi Gradient Ramp E glielo applichiamo Andiamo a prendere i colori E diciamo che prenderemo Un rosso Un po' più scuro E un rosso tendente Al nero Quindi una cosa del genere Anzi forse quello più chiaro Possiamo anche esagerare Ok Fatto ciò Andiamo a dire Che vogliamo una sfumatura Non lineare Quindi dall'alto verso il basso Ma radiale Facciamo una cosa del genere Prendiamo Come vedete L'effetto sfumatura Mette due pallini Questi due pallini Sono i due punti di colore Prendiamo quello che c'è sotto Quindi il colore più scuro Lo tiriamo giù via E quello lì Più chiaro Lo mettiamo in un angolo Così da creare Una sorta di Illuminazione Del nostro sfondo Fatto questo Andiamo ad aggiungere Un pochino di dettaglio Perché Manca qualcosa Nel video Quindi nel titolo Del film Che tra le altre cose Sono chiuso No Nel titolo del film Vedete Ci sono un po' di elementi Grafici Però Immagino che questi qua Facciano parte Del corredo grafico Del film Quello che noi stiamo facendo Non è ricreare Ricostruire Ma capire come fare L'animazione Poi potete creare Tutte le grafiche che volete Quindi il titolo Può avere Qualsiasi tipologia di grafica Ma noi cerchiamo Di ricreare una cosa simile Quindi Andiamo su google E cerchiamo Grunge texture Prendiamo Una texture Di questo tipo Cerchiamo Un'immagine Un pochino più grande Prendiamo una cosa Ad esempio Una cosa del genere Esistono Tantissime Soluzioni Per poter Procurarsi Delle texture Del genere Alcune sono Ad esempio Ci sono delle librerie Gratuite Ci sono librerie A pagamento E c'è sta google Immagini Su google immagini Dovete sempre Fare attenzione A quello che prendete E a come lo utilizzate Se utilizzate le immagini Per scopi commerciali Dovete contattare L'autore E chiedere l'autorizzazione Nel caso in cui Invece State facendo un video Per diletto Potete tranquillamente Utilizzare quel tipo di immagine Altrimenti Vi consiglio Come faccio per lavoro Di andare sulle librerie Come Adobe Stock Shutterstock Fotolia Ce ne sono tantissime E comprare Quello che vi interessa Allora Una volta importata La nostra texture La mettiamo Sopra Al nostro livello Di background E andiamo a dargli Un livello Di moltiplicazione Allora Tiro un po' Su questa Facciamo Switch Qui sotto E proviamo Con un moltiplica Come vedete Già abbiamo Raggiunto Quel Non so che Quell'elemento Grafico Che aiuta Tantissimo Con una semplice Texture Ma se Se non vi piace Così netto Possiamo andare Ad applicargli Andiamo a cercare Gli effetti Una sfocatura Diciamo Usiamo Una gaussiana Quindi Scriviamo Gaussian Eccolo qua Gaussian Blur Applichiamo Mettiamo Undici punti Così per Sfocarla Leggermente Sono gusti Possiamo anche Sfocarlo molto di più Semplicemente per dare Un po' di Delle macchie di colore Una volta fatto ciò Possiamo andare A duplicare Il livello Con il nostro Della nostra texture Andiamo a togliere L'effetto gaussiano Clicchiamo sulla R Quindi per Ruotare il video E mettiamo 180 Andiamo a scalare Leggermente Lo spostiamo Così da ottenere Un doppio livello Di texture Uno sfocato E un altro invece Più dettagliato Così da creare Un pochino di profondità Fatto ciò Ultima cosa Che vorrei fare E aggiungere Non un testo Ma un altro solido E questa volta Lo facciamo nero E lo chiamiamo Vignetta Andiamo a selezionare Il tool Dell'ellisse Per mascherare Una volta selezionato Il livello Clicchiamo due volte Su questo tool E in automatico Ci disegnerà L'ellisse Lungo il nostro fotogramma Fatto ciò Apriamo La tendina Della maschera Diciamo che la maschera È invertita Apriamo Le opzioni della maschera Aumentiamo Una sfumatura Di parecchio E diminuiamo Aumentiamo Scusatemi L'espansione Della maschera Così da creare Una vignetta Una vignetta Se è ancora troppo scura Possiamo cliccare Con T Sulla tastiera Per aprire Il parametro Dell'opacità E metterla Ad esempio A 50% Così facendo Noi abbiamo creato Abbiamo creato Una vignetta Ok Fatto ciò Abbiamo realizzato Graficamente Il nostro titolo In stile Baywatch Adesso Dobbiamo andare Ad animarlo Il tipo di animazione Che troviamo In questo In questo trailer È molto semplice In quanto è Prima di tutto A taglio Quindi non ci sono Animazioni In opacità In alfa Quindi è un taglio Tac Dobbiamo fare Due livelli Di animazione Il primo È quello Di animare La nostra scritta Baywatch Quindi Prendiamo La scritta Baywatch Prendiamo la S Sulla tastiera Così da aprire Il parametro Della scala Clicchiamo su scala Quindi Clicchiamo sullo stopwatch Per applicare Il primo keyframe Andiamo avanti E facciamo Aumentiamo 10 punti Così facendo Ne abbiamo Un'animazione Dove il testo Cresce Anzi facciamolo Più visibile Quindi facciamo 2,40 Una cosa bella Grande Anzi 2,30 Così il nostro testo Verrà in avanti Quindi diventerà Più grande La seconda animazione Che dobbiamo fare È La faremo in questo modo Creando Un oggetto nullo Applichiamo Quindi Imparentiamo Tutti gli elementi Che troviamo A questo oggetto nullo Prendiamo L'oggetto nullo Clicchiamo Sulla S Sulla nostra tastiera Portiamoci Diciamo A 7 fotogrammi 8 fotogrammi Andiamo Andiamo Il Creiamo il primo Keyframe In questa posizione Quindi in questa posizione A 8 fotogrammi Troveremo La scala A 100 Torniamo indietro E mettiamo Un valore Ad esempio Un 400 Ok Fatto ciò Dobbiamo aprire Le curve Di animazione Quindi il graph editor Cliccando su questo pulsantino Qui Noi apriamo Eliminiamo la timeline E apriamo L'editor delle curve E dobbiamo andare a lavorare Su questa curva qui In particolare La curva di animazione In questo caso La curva Quindi l'animazione È lineare Quindi parte da fermo Linearmente Ha un'accelerazione costante Fino a che non arriva Il suo valore E si ferma Si ferma di botto Quello che dobbiamo fare E creare un'animazione In cui Non si fermi Realmente di botto Ma abbia Una leggera curva Quindi come facciamo Prima di tutto Selezioniamo I nostri keyframe E clicchiamo su questo pulsantino Qui Questo pulsantino qui Crea L'easy in e l'easy out Per le nostre curve Per i nostri punti di animazione Quindi Andiamo a cliccarci sopra Così vediamo Che si sarà creata Una sorta di curva In questo caso Il testo Quindi l'animazione Parte lentamente Accelera E si ferma lentamente Quindi è una curva Molto più morbida A noi non basta questo Perché noi vogliamo Che la nostra scritta Parta molto velocemente Quindi facciamo al contrario Prendiamo La maniglia Della nostra curva Bézier La tiriamo giù Così facendo La nostra animazione Di in Quindi di impatto Sarà molto più veloce E arriverà E arriverà Fermandosi L'immagine In tutto questo Possiamo Forse 8 fotogrammi Su un pochi Arriviamo a 10 Ok Sposto il mio cursore A 3 Così Possiamo vedere In play E non ci resta Che cominciare Ad aggiungere Il motion blur A tutti gli elementi Perché in questo video Nel trailer di Baywatch C'è il motion blur Una volta fatto Premiamo play Aspettiamo che renderizza E ce lo guardiamo Ok Come inizio Non è assolutamente male Dobbiamo soltanto Aggiungere Qualche altro Piccolo dettaglio Quindi abbiamo L'animazione D'ingresso Adesso andiamo Ad aggiungere Le animazioni secondarie Animazioni secondarie Come vedete Da questo trailer Ve lo rimostro Che c'è un leggero Scosso Una scossa Quando arriva Giù Il testo Balla un pochino Facilissimo Da realizzare Dobbiamo andarlo A realizzare Manualmente Come Abbiamo Il nostro oggetto Nulo A cui tutto È attaccato E quindi Tutto viene animato E abbiamo La curva D'animazione Curva E quindi Keyframe Che sono animati Soltanto Per la scala Ma noi vogliamo Andarli ad animare Anche per la posizione Anche per la posizione Perché Questo movimento È dato dalla posizione Quindi andiamo Dove arriva Il nostro L'ultimo Keyframe Clicchiamo sulla P Nella nostra Tastiera Diamo il primo Keyframe E spostiamolo Di un paio Di fotogrammi Dove siamo Adesso Naturalmente Non sarà più Il keyframe Perché lo abbiamo Spostato Spostiamoci Leggermente A sinistra Andiamo dietro Di un paio Di fotogrammi E spostiamoci Leggermente A destra Leggermente Oltre il punto Centrale Andiamo dietro Di un altro Paio di fotogrammi Copiamo L'ultimo E lo incolliamo Vediamo L'effetto Come potete vedere Adesso Abbiamo Questo testo Che nel momento In cui arriva Ha uno scossone E si ferma Nel posto giusto Come vedete C'è un piccolo errore Nel senso che Dato che noi andiamo A spostare Tutti gli elementi Naturalmente Il nostro fondo Rimane Bianco A un certo punto Questa cosa Possiamo andare Tranquillamente A risolverla Prendendo il nostro Livello Di background Dove abbiamo Il nostro colore Di sfondo La nostra sfumatura E lo andiamo A scalare Giusto per andare Oltre Questo problema Qui Giusto per andare Oltre il bordo Della nostra immagine Così Facendo Quando renderizzeremo Otterremo Una cosa Del genere Naturalmente Graficamente Si potrebbe Lavorare tantissimo E renderlo Molto più carino Come ad esempio Modificare un pochino Le curve di colore Ma il concetto È sempre lo stesso Adesso si tratterebbe Di andare soltanto A rifinire Quello che è Il progetto In sé Ecco quindi Che abbiamo realizzato Il titolo La simile animazione Del titolo Del film Baywatch Io voglio ringraziare Rosario Greco Che l'ha scritto E l'ha richiesto Nei commenti Come lui Potete farlo Tutti quanti Con l'hashtag Luca pensaci tu Mi potete richiedere Di tutorial Delle informazioni Di video Di realizzare E dove c'è la possibilità Io lo farò Senza alcun problema Insomma Se questo tutorial Mi è piaciuto E vi può tornare utile Lasciate un mi piace Se volete commentare Avete delle domande Delle richieste Potete farlo Qui sotto O su tutti i miei social Quindi potete trovare Qui in descrizione Tutti i riferimenti Per i miei social network Non dimenticate Di iscrivervi al canale Per rimanere sempre aggiornati Su tutto quello che uscirà Che altro dirvi Noi ci vediamo Settimana prossima Con un nuovo video Settimana prossima Settimana prossima Settimana prossima Settimana prossima Settimana prossima